Cercando in internet ho scoperto che in italiano esistono solo 53 parole di tre lettere che iniziano con la lettera S. Qual è la prima che ti viene in mente? Se hai pensato a sax, sei sicuramente un amante della musica, probabilmente appassionato di jazz. Se hai pensato a sci, sarai certamente una persona sportiva. Se hai pensato a spa, mi sa che hai proprio bisogno di una vacanza. E ora hai pensato S.O.S. perché non sei ancora pronta per la prova costume? E se ti dicessi che con un solo prodotto puoi prepararti la prova costume e vincere un weekend di benessere in una fantastica spa a 5 stelle? Ti basta scegliere un prodotto della linea Zuccari, Super Arana Slim o Fordren, per partecipare al concorso. Ti aspettiamo in negozio per scoprire qual è il prodotto più adatto a te, ma frettati perché il numero di cartoline per partecipare al concorso è limitato. E per rimanere aggiornato su novità e promozioni, ricorda, metti mi piace e segui la pagina. A presto, ciao!